E grazie al prezioso contributo della regia di Luigi, Martino e Roberto Viscio andiamo a recuperare alcuni altri vostri scatti che ci avete inviato stamattina. Questa è la Vergine del Carmine di Avigliano con la quale ci salutano le care Giovannina e Mariangela, nostre fedelissime telespettatrici. E poi da Avigliano facciamo un salto a Napoli con un bellissimo scatto d'epoca, ce lo invia Stefania e ci regala questo tuffo nel passato, si tratta di un giro in giostra, qui i bambini che vedete sono i suoi cuginetti con la nonna, siamo nel dopoguerra, ci scrive Stefania, e la giostra fu costruita da nonno Amedeo per ricominciare a lavorare. È veramente bella, grazie per questa foto Stefania, magari un giorno faremo la puntata a tema con foto d'epoca, ecco mi dai un bello spunto, adesso me lo segno. E poi passiamo a Cava dei Tirreni con il buongiorno che ci invia Giuseppe attraverso la Madonna dell'Avvocata di Cava dei Tirreni. E poi da Cava dei Tirreni arriviamo a Guariglia, grazie a Maurizio, no chiedo scusa, Maurizio di Castellabate Salerno, per la precisione Alano di Castellabate, provincia di Salerno, che ci manda quest'urna di Santa Rosa. Grazie Maurizio, poi un buongiorno da Maria Concetta da Palermo con quest'alba meravigliosa, e ancora un buongiorno da Antonella di Putignano che ci invia la sua pianta grassa fiorita. Rita, e Rita invece, questa ecco la pianta di cui parlavamo, Rita invece ci riporta a Palermo e ci riporta al ricordo degli amatissimi Falcone e Borsellino. E poi Furco Vincenzo da Castellammare del Golfo, Trapani, una foto che ci riporta alla festa di Santa Rita che abbiamo celebrato solo ieri. E ancora un buongiorno da Rimini, ci scrive Anna, inviandoci questa bella foto nei pressi dell'arco di Augusto di Rimini, che ritrae questa farfallina su quel fiore. Complimenti, ci scrive, sempre bravissimi, grazie, grazie mille Anna. Chiudiamo con questa foto scattata ieri a Cascia, anche se non riporta il nome dell'autrice o dell'autore dello scatto, mi raccomando, non dimenticate di scrivere il vostro nome. Bene, Maria Pia, siamo giunti al prossimo collegamento, ma prima voglio chiederti se hai qualche news. Eh sì, purtroppo devo darvi una notizia sicuramente tragica. Siamo in Messico, anche lì c'è la campagna elettorale e purtroppo è crollato un palco durante un comizio. Sono nove i morti e 50 i feriti, un bilancio quindi veramente sconvolgente. La notizia arriva a noi attraverso la BBC, che come sapete è una delle fonti più importanti a livello mondiale ed è il network pubblico ancora nel Regno Unito. E tra l'altro una delle notizie di ieri che non ho fatto in tempo a darvi è proprio che anche nel Regno Unito si voterà prima del previsto, i primi di luglio, perché Rishi Suniak, il Premier, ha appunto gettato in qualche modo la spugna e ha consegnato il Paese a una campagna elettorale che precede almeno di sei mesi i tempi normali. Ma ho visto che già abbiamo un ospite pronta, non voglio dilungarmi troppo con gli aggiornamenti. Grazie Maria Pia e allora io saluto Marta Pasqualini, direttrice generale della Fondazione Progetto Valtiberina che ci parlerà stamattina del Festival dei Camini in Francesco 2024. Buongiorno Marta, bentrovata. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te per la disponibilità, dal 2017 il progetto Valtiberina organizza il Festival dei Camini di Francesco una manifestazione eterogenea che raccoglie al suo interno convegni, presentazioni di libri, spettacoli serali e trekking. Stiamo vedendo già qualche immagine che ci restituisce l'importanza e la bellezza del vostro lavoro. Che cosa ci dobbiamo aspettare per questa edizione 2024? Sì, come giustamente diceva in studio, questa è l'ottava edizione del Festival dei Camini di Francesco, una manifestazione eterogenea che in qualche maniera attraverso il trekking, attraverso degli eventi di intrattenimento e dei panel di approfondimento, parla di tematiche francescane, quali la sostenibilità ambientale e l'attenzione verso l'altro, quindi la creazione di comunità attraverso le relazioni interpersonali. Bene, in studio con me c'è anche la collega Maria Pia Picciafuoco, con la quale negli ultimi giorni abbiamo avuto il privilegio di vedere da vicino, grazie ad interlocutori e interlocutrici, come te, tante esperienze di cammino che sono un po' la metafora della vita, Maria Pia. Sì, anche la metafora, e non solo, di quello che ha fatto proprio Francesco D'Assisi. Del resto lui viveva in un'epoca in cui quello che noi oggi chiamiamo il cavallo di San Francesco, cioè i piedi, era il mezzo più comune. Volevo chiedere alla nostra ospite, visto che queste iniziative portano a conoscere meglio la bellezza del paesaggio, quanto secondo lei oggi invece non lo vediamo questo paesaggio, perché magari si guarda lo smartphone o perché comunque lo diamo per scontato? C'è qualche anticorpo che voi stillate con le vostre iniziative? Sì, diciamo che uno appunto dei principali intenti di questo festival è fondamentalmente mettere di nuovo al centro la relazione tra uomo e natura e l'esperienza di trekking che noi offriamo è una modalità in realtà per far scoprire alle persone un modo lento di viaggiare, di scoprire i territori. Ricordo che il nostro festival si svolge quest'anno soprattutto su otto comuni tra la Valtiberina Toscana e quella Umbra, l'Alto Tevere Umbro, quindi in qualche maniera passa proprio attraverso il cosiddetto cammino di Francesco e quindi offre la possibilità di conoscere questi territori a strettissimo contatto con la natura. Bellissimo. Eh sì, e come dicevamo... Con ogni stagione, perché poi sono settimane e giorni in cui troviamo primavera, estate e autunno tutti insieme. Sì, e tutto questo ci, come dire, ci avvicina alla dimensione, all'esperienza di San Francesco che con la sua vita, con la sua testimonianza ha ispirato questo festival e ci sono anche eventi collaterali al festival stesso? Sì, diciamo che ci piace dire che appunto ogni anno traiamo spunto da un evento diciamo legato alla vita del santo, quest'anno, ci tengo a dirlo, abbiamo voluto dedicare l'edizione al tema del dono, proprio rifacendoci al dono delle stigmati di San Francesco all'ottocentesimo anniversario del dono delle stigmati e anche dal dono che il santo fece del proprio saio a Montauto in provincia di Anghiari. E quindi tutto il festival in qualche maniera parlerà del concetto di dono, di comunità e di futuro appunto. Per eventi collaterali abbiamo, diciamo, in realtà, come dicevo, è una manifestazione molto varia che offre approfondimenti, offre intrattenimento. Quest'anno si aggiunge alla proposta anche una mostra di incisioni proprio dedicate alla figura di Francesco. Molto bene, Marta, noi ti ringraziamo quindi per averci parlato del festival dei cammini di Francesco. Vi auguriamo una buonissima ottava edizione e niente, magari possiamo poi anche risentirci a lavori conclusi per fare un bilancio di quello che è successo quest'anno. Ti va? Volentieri, grazie davvero a voi, è stato un piacere. Un caro saluto.